Adesso l'ultimo per questa manche, l'ultimo concorrente, anche lei è una ragazza, si chiama Desi Vaselli, viene da Siena e ci canta una canzone di Tiziano Ferro, Sere Nere. Prego, ciao Desi, codice 03. Ripenserai agli angeli, al caffè caldo, svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi tuoi. Dicono che mi servirà, se non uccide, furtifica, mentre passa distratta la tua voce alla tv. Dalla radio al telefono, risuonerà il tuo addio di Sere. Non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà. Perché non è un rilezza, ma lei, ma lei, ma lei che moria senza più. senza te, senza te. Rita sarà che non sei tu, a mi distrae la pubblicità, tra le orarie di traffico, l'avore tu ci sei, tra i bagun e il citofono, ti dedico i miei guai di fare le rete. Non c'è tempo e non c'è spazio, e mai nessuno capirà. Puoi rimanere perché fa male, male, male da morire senza te. Grazie. Desi con il codice 03, grazie.